Sì Oh Mamma mia Finalmente un po' di silenzio Oh, veramente Ma quella musica mi stava ammazzando Mamma mia questa pancia è proprio schifo Davvero? Sei ben acquato Vabbè ascolta, quindi come ti chiami? Alissia, tu? Mi chiamo Peter Tiacere Peter Tiacere! Da pensi che dovremmo tornare dentro? Si Oh no! Sì Mi andai tu via? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma quando sono tornata a casa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.